Dopo aver imposto la legge del Quercioli al chiusi all'esordio in campionato e lo stop con il minimo scarto rimediato a Monte San Savino, la Castelnovese è pronta a misurarsi con una delle attuali capoliste del campionato, quella Audax Rufina che non ha nascosto in estate le proprie ambizioni di prendersi sul campo il palcoscenico più importante in ambito regionale, ovvero l'eccellenza. Battendo all'esordio al quotato Subbiano, despugnando Cortona, altra realtà che sembra costruita per stare nelle zone altissime della graduatoria, i bianconeri mugellani hanno evidenziato un medesimo atteggiamento anche in Coppa Italia, spugnando Ponta a Sieve con un 3-0 che ammette poche repliche. Con l'esperto Musca si importa le certezze offensive rappresentate dall'eterno Righini e da buoni insegni, i ragazzi allenati da Simone Pinzauti, ex Olimpia Palazzolo, alzano dunque l'asticella di difficoltà per le gare interne degli Amaranto con il mister Zavaglia che si presenta al completo con l'unica eccezione di un Simoni non al 100%. Da notare che la gara è programmata in anticipo, si gioca infatti sabato alle 15.30. La dirigenza ha scelto così per evitare la concomitanza con il derby tra San Giovannese e Montevarchi che evidentemente richiama sportivi anche dalla terra delle miniere.